Buongiorno a tutti, sono per chi non mi conoscesse ancora Massimiliano Leoni, per gli amici quelli più legati a me, Max, mi occupo generalmente come responsabile e quindi general manager della MKG Cycling Team, vicino a me ho mio carissimo amico Giancarlo Di Domenico, appunto in quanto tale per gli amici Gianchi, si occupa, non è solo membro atleta della MKG, ma anche di tutto ciò che concerne la segreteria di questo organico e siamo alle nostre spalle su questo luogo, un luogo meraviglioso e bellissimo come il Vitaria Country Residence che non solo ci ospita oggi, ma ci ha già ospitati a febbraio per la presentazione e il lancio di questo nuovo team che gestisco insieme a questi atleti, ma in virtù e in occasione di quello che sarà l'altro epilogo di questo 2012 per tutto il nostro organico, cioè di una gara di mountain bike e di un evento molto importante nel panorama delle cosiddette ruote grasse, cioè il primo trofeo MKG tra le colline di Vitaria. In questo preciso suolo, oltretutto, il 23 settembre prossimo, oramai tra tre settimane, si concluderà, quel che mi auguro con grosso sacrificio, impegno, ma anche e soprattutto piacere, l'epilogo di questa ennesima bellissima giornata, e cioè il pacco della premiazione, dove vedremo e conosceremo i fortunati, ma soprattutto meritevoli gli vincitori.